Sono oltre 5.600 i nuovi negativizzati presenti all'interno del bollettino epidemiologico giornaliero della Puglia che fotografa la situazione della pandemia da Covid-19 in regione. Un boom di guariti che complici i soli 631 nuovi casi fa scendere gli attualmente positivi a poco più di 20.000. Sono 6.603 i test effettuati, mentre si conta anche un nuovo decesso a causa del virus. Restano stabili rispetto a ieri invece i ricoveri, 246 pazienti in area non critica, mentre sono 15 le persone in terapia intensiva nei reparti dedicati alla pandemia da Covid-19. I nuovi casi provincia per provincia sono 173 nel Barese, 147 a Lecce e 133 nel Foggiano. A Taranto si segnalano 55 nuovi contagi, mentre nell'Abat 54 e nel Brindisino 52. Sono 15 invece i casi accertati di residenti fuori regione.